Torna con l'edizione 2022 Il mare più bello, la guida blu di Lega Ambiente, che da oltre 20 anni offre una panoramica annuale sui comprensori balneari più belli e sostenibili della penisola, capaci di offrire una vacanza a 5 vele. La 22esima edizione è stata presentata in Abruzzo nell'area marina protetta Torre del Cerrano, premiata per il terzo anno consecutivo con le quattro vele, giudicando tale tratto di mare la migliore spiaggia in Abruzzo e tra le migliori in Italia. Riconfermiamo anche quest'anno per la MP Torre del Cerrano quattro vele su cinque, quindi diciamo un'eccellenza per l'Abruzzo. Questo è merito del grande lavoro che si sta portando avanti negli ultimi anni? Sicuramente, anche perché nella nostra guida parliamo della sinergia che si crea fra le buone amministrazioni locali e quelle che sono le buone pratiche di turismo sostenibile, quindi la capacità di avere delle spiagge che siano di un turismo adatto e dinamico, magari attrezzato con delle pliste ciclabili, la possibilità di fare trekking, escursioni in canoa, ma anche l'accessibilità che è fondamentale. La MP rappresenta una buona pratica e dimostra che un nuovo modo di fare turismo è possibile, puntando sull'ambiente e sull'inclusività. Insieme alle guide del Cerrano portiamo avanti tutti i giorni, quotidianamente, le visite guidate a Torre del Cerrano e al Museo del Mare. Ci sono delle attività di snorkeling, sempre insieme alle guide, che permettono di conoscere le acque bellissime dell'area marina protetta, un po' la storia del territorio e anche i resti che sono dell'antico porto che si trova proprio di fronte a Torre del Cerrano. Sono iniziate attività in e-bike, attività di cicloescursionismo, pochi anni fa non esistevano, negli ultimi anni, anche probabilmente grazie alla presenza dell'area marina protetta, di due bellissime piste ciclabili che collegano Pineda e Silvi, sul territorio si può fare attività in bici di cicloescursionismo con le guide. Insieme a queste attività portiamo avanti sempre le funzioni di educazione ambientale, che sono andate avanti durante l'inverno, durante le primavera, e che andranno avanti comunque sia anche durante l'estate con le attività per famiglie e con bambini per conoscere quanto è importante la tutela dell'ambiente e della biodiversità.